Un Nobel in cattedra all'Università dell'Insubria, sede di Como. Incontro davvero prestigioso quello annunciato oggi dall'Ateneo Cittadino, che avrà l'onore di ospitare per tre mesi Laurent Laforgue, insignito della medaglia Fields per la matematica nel 2002, onoreficenza del tutto equivalente appunto al Nobel. La medaglia Fields viene conferita ogni quattro anni per i contributi eccezionali alla matematica, dati da giovani scienziati che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. Laforgue sarà dunque all'Insubria dal prossimo mese di ottobre e fino a dicembre. Professore permanente in Francia all'Istituto degli Alti Studi Scientifici, con sede vicino a Parigi e vincitore della medaglia Fields 15 anni fa, laforgue terrà un corso di circa 36 ore sul tema dei gruppi di simmetria. Il corso, a livello dottorale, sarà accessibile anche agli studenti più motivati dei corsi di laurea magistrale in matematica e fisica. La prima lezione è in programma il 3 ottobre, dalle 11 alle 12.30, nella sede di via Valleggio 11 a Como. Siamo eccitati dalla visita del professor Laforgue. È una grande occasione anche per i nostri studenti. Non capita tutti i giorni di poter seguire le lezioni di una medaglia Fields, ha commentato il professor Alberto Setti, presidente del corso di laurea in matematica dell'Università degli Studi dell'Insubria.